Ciao astronomi! Oggi voglio mostrarvi un grande telescopio di osservatorio che l'Officina Stellare ha designato per proporzionare un circolo di immagini di immagini di immagini, con un ratio F7 fondamentale. Questo è il RIDI-K 400 e abbiamo creato una bandola con l'esatto 4 inizio robotico. RIDI-K significa Riccardi Dark IRCAM e è un sistema optico basato su un mirror spherico secondario con un gruppo corretto corretto, che non solo ha un circolo di immagini di immagini di immagini ma è più facile collimare in rispetto al Stadar Richie-Kretien. In particolare, il RIDI-K 400 ha 400 mm in diametro e 2.800 mm focal. Il telescopio pesa 44 kg e ha un tubo di alunione di carbonio tra il tubo, designato per essere molto stabile con i cambiamenti di temperatura. In order to bundle with our robotic focusers, we design a specific adapter, to let you connect esatto 4 inizio, to the M120x1 female thread that you have in the back cell of the RIDI-K 400. This allows you to have our high precision and load capacity robotic focuser. Officina Stellare RIDI-K 400 has 294 mm back focus from the rear cell and since the esatto 4 inizio plus the adapter is 95.5 mm thickness, you still have 194.5 mm space that allows you to use even thick imaging trains composed by many accessories. And if you add the ARCO 3 inizio camera rotator and filter rotator after the esatto 4 inizio, you still have a 174 mm back focus after the rotator. You can also add the Eagle, for example by connecting to the upper Los Mendes style Dove del bar by using the plus clamp. This allows you to remotely control and power all your devices in a very easy way. I really like this RIDI-K 400 telescope with esatto robotic focuser because it provides observatory class performance with a large corrected image circle in an easier to collimate optical design and a telescope that you can install in a 3 meter diameter dome. For more content that will help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and Clear Skies! And Clear Skies!